Francesco Totti aveva già tradito Ilari Blasi altre volte? Noemi Bocchi è solo l'ultima e più fortunata delle tante amanti dell'ex capitano della Roma? La conduttrice dell'Isola dei Famosi inizia ad avere dei dubbi sul passato del suo matrimonio? Emergono nuove scottanti verità e nuove foto sulla storia di Totti e Noemi Bocchi e sulla possibilità che l'ex capitano della Roma avesse già tradito Ilari Blasi ancora prima della rottura e della sua recente storia con la 34N. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche, Emanuele Maurizzi, chi è l'amico di Ilari Blasi che ha aiutato Totti e Noemi? Foto Instagram Totti e Noemi Bocchi nuove foto di chi, chi è Emanuele? Il magazine che ha sfoderato nuove incredibili foto di Totti e Noemi Bocchi e inaspettati retroscena su Emanuele, migliore amico di Ilari Blasi. Ma cosa sta succedendo, e cosa centrerebbe con Noemi un amico di Ilari? Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto in cui si vedono Noemi e un uomo scherzare in acqua. Beh, si tratta proprio di Emanuele, foto di chi peccato, inoltre, che non sia la prima volta che Emanuele viene beccato in compagnia di Noemi Bocchi e dell'ex marito dell'amica Ilari Blasi. È proprio lui, infatti, che, la scorsa primavera, era stato beccato con la Bocchi e Totti a Monte Carlo. Ma la storia non è finita qui. Emanuele è protagonista proprio delle prime foto di Totti e Noemi Bocchi allo stadio. E pare che sia stato lui l'escamotage perfetto per ingannare Ilari Blasi. Ecco cosa rivela chi, foto di chi Totti aveva già tradito Ilari Blasi? Una volta che tutti i retroscena sono venuti a galla è difficile credere alla versione amorevole e fedele che Totti aveva sempre propinato a Ilari Blasi e ai suoi fan. Si moltiplicano, infatti, i dubbi sulle passate voci di tradimento e sulle paparazzate storiche di Fabrizio Corona. Forse anche Ilari Blasi si sta ricredendo e sta iniziando a mettere tutto in discussione. Ecco cosa riporta chi, e voi cosa ne pensate? Totti, prima di Noemi Bocchi, aveva già tradito Ilari Blasi? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito alle nuove foto di Francesco Totti, Noemi Bocchi e l'amico Emanuele. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!